Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Ogni giorno emergono nuovi particolari agghiaccianti sul duplice delitto avvenuto a Mestre, dove Stefano Perale ha ucciso i due fidanzati. Anastasia e Biaggio sono stati uccisi senza pietà, lei era al quinto mese di gravidanza. I fidanzati dovevano trasferirsi a Mestre e iniziare una nuova vita insieme alla luce anche della prossima nascita. In queste ore gli investigatori continuano le indagini per ricostruire la tragedia. L'omicida aveva premeditato tutto, ma cosa ha scatenato questa follia e poi perché? Dal carcere lui ha ammesso ogni responsabilità, affermando anche che erano notti che non dormiva. E adesso cambiamo argomento. Sono 1.267 finanzieri appartenenti a 46 sezioni aeronavali di 15 regioni italiane a ricorrere al TAR contro il Comando Generale per l'Indennità di Servizi Esterni, che ammonta circa 150 euro mensili. Nove ricorsi sono già stati depositati, mentre altri 15 stanno per essere depositati in due successive tranche proprio in questi giorni. Il trattamento economico era stato riformato nel maggio 2016 dal generale Saverio Capolupo a pochi giorni dal passaggio di consegne del Comando della Guardia di Finanza al generale Toschi e dalla sua nomina nel Consiglio di Stato. Nell'ottobre scorso, in risposta alla diffida a pagare l'indennità, diffida presentata da oltre mille militari, il Comando Generale della Guardia di Finanza aveva detto che avrebbe emanato a breve un'apposita circolare che doveva disciplinare nuovamente la materia, anche in considerazione delle aspirazioni degli interessati. Possibile tragedia nel mare Adriatico, scomparsa una donna di 33 anni che lavorava a bordo di una nave da crociera. Le ricerche si stanno concentrando anche in queste ore in mare. È giallo sulla scomparsa di una donna da una nave da crociera della compagnia MSC. Si tratta di una brasiliana in servizio all'interno della struttura, si occupava delle pulizie nelle cabine. I colleghi l'hanno vista l'ultima volta le 17 di domenica. Con il passare delle ore hanno capito che a bordo non c'era e quindi è scattato l'allarme. Immediatamente si è mossa la macchina dei soccorsi, ma al momento le ricerche non hanno dato esiti. In azione, in mezzi navali della Capitaneria di Porto e in volo, si è alzato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Venezia per una missione SAR su richiesta della Capitaneria di Porto in mare aperto per la ricerca della donna. L'elicottero con a bordo un somozzatore ha effettuato due missioni in volo in una zona predefinita di ricerca con esito negativo. La nave era sulla rotta Venezia-Brindisi. Uomini della Capitaneria di Porto sono anche saliti a bordo di MSC per un'ispezione e cercare la 33N, ma di lei nessuna traccia. Non viene escluso un possibile allontanamento volontario, senza spiegazioni, ma l'ipotesi appara in quanto remota. Le ricerche proseguono. Dobbiamo parlare di un incidente, di una serie di disagi che si sono verificati questa mattina lungo la 4, dove un tir ha perso il carico di granaglie che stava trasportando e è accaduto nell'area di cantiere per la costruzione della terza corsia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. La perdita del carico sarebbe stata provocata da una brusca e improvvisa frenata del mezzo pesante. La situazione è tornata alla normalità verso le 12, ma il traffico è rimasto intenso nel tratto con direzione Venezia per diverse ore. Parliamo di un'operazione antidroga. 160 grammi di cocaina nascosti in macchina. Un veronese di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo aveva attirato l'attenzione della pattuglia, poiché aveva tentato di sottrarsi al controllo con una manovra repentina. I militari lo hanno bloccato e dal controllo è emerso lo stupefacente. è seguita subito dopo una perquisizione domiciliare durante la quale è emerso il materiale che l'uomo utilizzava per confezionare la droga. L'arresto è già stato convalidato. Parliamo di un altro arresto, questa volta per evasione. Un veneziano di 46 anni che era uscito dalla propria abitazione dove si trovava i domiciliari è stato bloccato dai carabinieri. I militari avevano constatato la sua assenza da casa durante un controllo e lo avevano rintracciato in lista di Spagna con direzione stazione dei treni di Santa Lucia. Quindi a Venezia non ha ancora chiari i motivi dell'evasione. Secondo l'uomo doveva prendere una boccata d'aria ma non viene escluso che volesse in realtà allontanarsi. Al termine dell'udienza per direttissima il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Proseguiamo con altre notizie. Parliamo del Servizio Civile Nazionale. Ci sono 229 posti nei campi con Inac Cia. Allora cerchiamo di capirne di più, sentire dove e anche quanto viene remunerato. Il servizio civile è possibile svolgerlo anche in agricoltura dando assistenza agli anziani, gli stranieri nei campi e tutelando i diritti dei cittadini. L'Inac, il patronato promosso dalla Cia Agricoltori Italiani, vede per il quinto anno consecutivo finanziati i suoi progetti di servizio civile nazionale che salgono a 14, dei quali uno all'estero in Albania. Lo annuncia la Confederazione Agricola nel precisare che complessivamente sono 229 i posti disponibili in varie regioni d'Italia, a cui si aggiungono quattro posti all'estero sulla sede di Tirana in Albania. I progetti a cui possono candidarsi i giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda ricadono negli ambiti di impegno del patronato e vanno dall'azione di informazione sui diritti degli stranieri in Campania, Liguria, Lazio, Calabria e Torino, a quella verso gli anziani in Veneto, Piemonte, Abruzzo, Molise, Puglia e Marche e quelli di tutela dei diritti dei cittadini in Toscana e Umbria. La durata di ogni progetto aperto a giovani sia italiani che stranieri con regolare permesso di soggiorno è di 12 mesi per un impegno settimanale di circa 30 ore su 5 giorni ed è previsto il riconoscimento di un compenso mensile di euro 433,80. Il compenso sale di circa il doppio per il progetto in Albania per il quale è previsto anche il vitto e l'alloggio. I giovani interessati possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le 14 del 26 giugno compilando i modelli disponibili sul sito internet www.inac-cia.it Attraverso un corriere espresso 20 water naturalmente nuovi e dovutamente imballati sono stati consegnati ad altrettanti rappresentanti del mondo economico e culturale tra loro i beneficiari sono stati Zaia, Franceschini e Sgarbi che ruotano attorno al destino della palladiana Villa Emo di Vedelago e l'ironico dono del facilmente intuibile significato che il conte Leonardo Emo, detto Marco, ha voluto inviare per protestare contro la decisione del credito cooperativo trevigiano di restituirli l'archivio privato della famiglia Emo, capo di lista conservato dall'istituto di credito dal passaggio di proprietà della villa della famiglia Emo alla banca stessa. Una decisione che, come indica la tribuna di Treviso per il nobile ultimo proprietario di questo immobile è un segnale della scarsa attenzione verso la villa che è patrimonio dell'umanità. La lista dei premiati di Leonardo Emo, che ora abita in Toscana è stata aperta da Piero Pignata, presidente della BCC. Si comincia con l'ultimo weekend di luglio, venerdì 28 e sabato 29 e poi si prosegue con il primo, terzo e quarto weekend di agosto e infine al 2 settembre. Sono le date con il traffico da bollino nero previsto sull'A4 dalle concessionarie autostradali del Nord-Est, Cav e Autovie Venete. Per A23 si prevede invece traffico critico sabato 19 e 26 agosto e anche qui sabato 2 settembre. Macav e Autovie assieme alla Polstrada sono pronte per le contromisure ovvero un aumento di uomini e mezzi nelle giornate più difficili per lo spostamento dei vacanzieri, in particolare nei fine settimana di luglio e agosto. Tra le iniziative è anche un nuovo strumento per contribuire a combattere i colpi di sonno degli automobilisti, un caffè offerto dalla società concessionaria nella sua auto area di servizio nelle notti dei weekend estivi. E adesso dobbiamo invece parlare di un grande evento. Il 22 giugno al Via la tanto attesa manifestazione Veneta Sorsi d'autore. è una serie di eventi con grandi personaggi e degustazioni in località davvero suggestive e meravigliose. Allora sentiamo quali sono le novità previste per il 2017 e alcuni nomi degli ospiti. Prenderà il Via il 22 giugno in Villa Cordellina Lombardia a Vicenza la diciottesima edizione di Sorsi d'autore, tra le più longeve manifestazioni dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico ed enogastronomico regionale. Il festival è organizzato da Fondazione Aida e per l'ottavo anno consecutivo viene ospitato in alcune tra le più suggestive Ville Venete grazie alla collaborazione con l'Istituto regionale Ville Venete e Regione del Veneto. Ad inaugurare la Kermesse il 22 giugno Giuseppe Vessicchio il maestro più pop di Sanremo che con Giuseppe Maria Ricchiuto fondatore di Specchia sulle pioniere della medicina naturale in Italia presenterà La musica fa crescere i pomodori. Il 24 giugno a Villa Violini Nogarola, Castel Dazzano in provincia di Verona Mauro Corona e Luigi Maieron presenteranno per la prima volta a Verona Quasi Niente libro di narrativa pubblicato con successo da Chiare Lettere in tre mesi alla sesta ristampa. L'evento definito dallo stesso Corona un cabaret di strada che non vuole indicare nessuna via ma parlare alla gente di come siamo sarà l'occasione per una riflessione su alcuni passaggi fondamentali del libro. Tra questi i temi della memoria ovvero l'occasione che abbiamo di ricordare ogni giorno l'indispensabile della sconfitta fragilità, desiderio, pace interiore, lealtà, radici silenzio, senso del limite, amore rievocando personaggi leggendari uomini e donne che non hanno trovato spazio nei libri di storia ma hanno saputo lasciare un messaggio illuminante che può trasformare le nostre vite. Le riflessioni di Corona saranno completate dalle frequenze musicali del cantautore e poeta Luigi Maieron che chitarra alla mano coinvolgerà il pubblico fino a farlo cantare. Gli eventi sorsi d'autore in Villa Violini inizieranno alle 18.30 con una degustazione. Una serata dedicata alla cura di sé al benessere sarà invece quella del 30 giugno a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia dove Milli Carlucci con Cinzia Tani darà voce a Il Meglio di Te, Volersi Bene, per essere in forma. Un appuntamento con l'attualità un confronto sui temi caldi del nostro tempo sarà invece quello del 2 luglio presso Villa Badoer a Fratta Polesine in provincia di Rovigo con Federico Rampini e Luca Telese che presenteranno Il Tradimento. È partito ieri sera dal Teatro Romano di Verona al tour con cui Francesco Gabbani si ripresenta dal vivo dopo la vittoria a Sanremo e l'avventura a Eurovision Song Contest al seguito di Occidentali Scarma di fronte alle 1600 persone che hanno gremito il teatro per un'ora e 40 minuti di spettacolo il cantautore di Carrara non ha pensato a effetti speciali sarà un live focalizzato sulle canzoni ha detto sento la responsabilità di mostrare al pubblico che possono avere fiducia in me e accontenterò chi viene solo perché sono quello di Occidentali Scarma dice Gabbani parlando alla stampa che ha incontrato prima del concerto la scimmia dice però non ci sarà perché abbiamo concluso quella parentesi mi auguro che la mia musica abbia altro da dire ed ora parliamo di clima vediamo come proseguiranno le prossime giornate le condizioni rimarranno di alta pressione grazie a un promontorio anticiclonico che si espande dal Nord Africa e interessa l'Europa centro-occidentale sul Veneto cielo in prevalenza sereno e aria progressivamente ancora più calda è tutto per questa edizione ringrazio tutti voi per l'attenzione vi auguro una buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.